Ciao a tutti, benvenuti su Gossip News Ita, il vostro canale preferito per rimanere aggiornati sulle ultime novità e pettegolezzi. Oggi parleremo della strategia di Chiara Ferragni per uscire dalla tempesta mediatica, quindi assicuratevi di rimanere sintonizzati fino alla fine. Chiara Ferragni ha recentemente adottato una nuova tattica di comunicazione, cercando di scrollarsi di dosso le polemiche e i contraccolpi che ha subito. Sta postando attivamente sui social, ma con un twist, si mostra principalmente nella sua veste di mamma, condividendo dolci momenti in famiglia, senza trascurare l'importante figura di sua madre. E dove si trova suo marito Fedez in tutto questo? Scopritelo più avanti nel video. La nuova strategia sembra aver suscitato reazioni contrastanti, con alcune aziende che tagliano i rapporti con Chiara. Un contratto con Coca-Cola è saltato, e altri brand rinomati stanno ancora valutando se restare al suo fianco. Sveleremo anche i nomi di questi marchi importanti, quindi restate con noi. Prima di addentrarci ulteriormente, vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno continuo. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici appassionati di gossip e news italiane. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo della questione. Contenuto principale del video. E così, Chiara Ferragni sembra essere in una fase di rinascita, cercando di riscattarsi dopo le recenti controversie. Il marito Fedez è latitante, ma scopriremo cosa potrebbe significare per la coppia. Tuttavia, non tutto è rose e fiori, pochi alcuni contratti importanti sono andati persi. Coca-Cola ha cambiato idea, e altri marchi di prestigio stanno ancora prendendo decisioni cruciali. Chiara Ferragni è pronta a risorgere, sia nella sua vita familiare che nel suo business. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e, nel frattempo, non dimenticate di condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Prima di concludere, un grande grazie a tutti coloro che ci seguono. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi, lasciate un like e fateci sapere cosa ne pensate di questa situazione. Ci vediamo nel prossimo video di Gossip e News Ita. Grazie e alla prossima!